Questi tizi propongono che la propensione degli esseri umani a riflettere con la voce, con gli atteggiamenti del volto, le manifestazioni del bambino, cioè il fatto che i genitori ovviamente, che innanzitutto riflettono le manifestazioni del bambino, anche il livello di imitarli e di accentuare, ad esempio il bambino fa dei versi idioti, il genitore generalmente la mamma li accentua, quindi vedi questa idea di queste coppie un po' idiotere, intanto questa cosa è importante, quindi la mamma deve essere anche idiota fondamentalmente.